Il calendario è il vero e proprio calendario del 50 per 50, inteso non solo come successione di eventi ma come focus che verrà messo su ogni comune nelle 52 settimane dell'anno. Quindi è uno strumento comunicativo della capitale italiana ma ci serve un po' a scandire il tempo di quello che sarà l'anno del capitale, darci l'appuntamento settimana per settimana nelle varie località, iniziare anche ad inquadrarle dal punto di vista della distanza, dei collegamenti e alcune informazioni che vengono date all'interno del calendario. E il calendario stesso di cui oggi distribuiamo una prima stampa si arricchirà di settimane e settimane, di mesi in mesi anche nelle future edizioni, dei dettagli e delle iniziative che i comuni andranno realizzando e comunicando. Già oggi siamo insieme a tanti amministratori che sono qua per raccontare il focus della loro settimana in particolar modo e per dare questa idea di insieme che è l'avvio di questo viaggio importantissimo che è la capitale 24.